Allora, Anna Rosa Locatelli, Presidente del Comitato Gemellaggi, come è andata questa ultima esperienza in ordine di tempo con i ragazzi di Lyon? È andata benissimo, è stata splendida, si sono trovati molto bene e hanno chiamato dicendo che è stato fantastico, hanno conosciuto tanta gente, per cui sono tutti pronti a ritornare nel momento in cui gli avessimo dare il via. È stata una settimana intensissima, vero? Sì, molto intensa ma molto soddisfacente. Quanto costa un'esperienza di questo genere, una settimana di lavoro, al di là di quello che può essere il costo economico, dal punto di vista anche umano, personale? A me personalmente non costa niente perché io credo molto in questa cosa, soprattutto se riguarda i giovani. È comunque un grande sforzo, quante persone sono coinvolte, per dire, a Ballabio? Beh, a Ballabio sono coinvolte le famiglie che hanno ospitato, sono coinvolti alcuni membri del Comitato Gemellaggi, ovviamente quelli che sono liberi di impegni di lavoro e chi vuole essere presente a queste manifestazioni. Il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è il 19-23 agosto a Divion per festeggiare il quinto anno dell'anniversario del Comitato Gemellaggi. Per il 2010 c'è già qualcosa in cantiere? No, per il 2010 non si è ancora parlato di nulla, però se tutto andrà bene ci sarà la solita settimana di corso di vela a Di Lione nel mese di luglio. Se tutto rimarrà come dovrebbe essere, da parte nostra e da parte loro ovviamente. Grazie.